... Serie A2, pool, promozione a un turno dal termine di questa fase Delta Informatica. E' una sola lunghezza dalla capolista Perugia. In palio c'è la promozione diretta. Ancora Luca Bindi. Il sogno c'è, il sogno c'è. Esiste questo sogno sportivo per l'allenatore della Delta Informatica Trentino, Nicola Negro, ha un turno dalla conclusione della pool promozione di Serie A2. Le sue ragazze sono già matematicamente seconde, dunque casomai dovessero fare i play-off e partirebbero da prime della classe. Ma il pensiero di tutto l'ambiente giallo-blu è spostato a domenica. La prima piazza che vale la promozione diretta dista solo una lunghezza e si chiama Perugia, che andrà a giocarsi un rovente derby regionale a Orvieto, mentre la Delta, sempre in trasferta, volerà a Mondovì. Domenica prossima, 14 aprile, alle ore 17, inizieranno le due gare e le probabili emozioni. Fondriest e compagni e forti delle otto vittorie consecutive in Piemonte cercheranno di prendersi qualcosa di incredibile, forse neanche pensato a inizio stagione. Se accadesse però sarebbe dolce musica, con baci che da perugini diventerebbero trentini.